Vuoi preparare delle girelle golose in 10 minuti? Guarda il video fino alla fine. Per prima cosa prendi un pandoro e affettalo in fette spesse. Sistema le fette di pandoro sovrapposte fra loro su una spianatoia e appiattiscile con il mattarello. Farcisci la sfoglia di pandoro ottenuta con della crema spalmabile alle nocciole e stendila bene lungo tutta la superficie aiutandoti col dorso di un cucchiaio. A questo punto arrotola il tutto molto delicatamente e avvolgi il rotolo ottenuto in un foglio di pellicola per alimenti. Riponi il rotolo in frigorifero a riposare per circa 30 minuti. Nel frattempo sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria o in microonde. Riprendi il rotolo dal frigorifero e tagli alle girelle. Questo è il risultato che dovrai ottenere. Immergi ogni girella fino a metà nel cioccolato fondente fuso. E non appena avrai terminato lascia asciugare il cioccolato. E tadan! Eccole pronte! Guarda quanto sono golose! Ti sono piaciute? Lasciami un commento!